Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le previsioni meteore date da Arpa Piemonte per gli escursionisti. Tempo tipicamente primaverire atteso nel weekend con temperature gradevoli e alternanza tra nuvolosità e schiarite, ma vediamo i dettagli aiutandoci con le mappe meteo a grande scala. Sabato un nucleo di bassa pressione si allontanerà dalle regioni dell'alto tirreno per dirigersi in serata verso il sud Italia. Tale situazione favorirà un rialzo nei valori di pressione ed è un ritorno a condizioni più soleggiate. Avremo quindi una giornata caratterizzata da una nuvolosità irregolare, ma non mancheranno ampie schiarite soprattutto sulle zone pianeggianti e collinari della regione. Saranno inoltre possibili dei rovesci temporanei e deboli sulle testate vallive alpine, nonché qualche temporale residuo al primo mattino soprattutto nel Cuneese. La ventilazione sarà debole a tutte le quote. La quota dello zero termico si posizionerà su valori prossimi ai 2000 metri. Le temperature di sabato sono attese in dieve calo nei valori minimi, mentre non subiranno variazioni di rilievo in quelli massimi. Domenica continuerà l'espansione dell'alta pressione verso la nostra regione e ciò garantirà una giornata prettamente soleggiata a tutte le quote e su tutti i settori della regione. Grazie alla maggiore insolazione registreremo un rialzo nelle temperature massime, mentre avremo un leggero calo in quelle minime. Con questo è tutto, vi auguriamo un buon fine settimana e vi ricordiamo che potete consultare gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni sul sito di Airpia Piemonte o su quello di Meteovetta dedicato agli escursionisti o direttamente sugli apparecchi smartphone mediante la app Meteovetta dedicata. Arrivederci! Grazie a tutti!